Se non li conoscete guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegua a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. E' un saluto singolare, fatto con la mano destra, come in scuola elementare, si usa a far con la maestra, per avere il suo permesso di assentarsi andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare, guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate, vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro la pedate, nel sedere a chi sta avanti. File piglia senza darle, e chi marcia in prima fila, file da senza figliarle, siano in dieci o in diecimila. E chi è un po' meno babbeo, sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista, marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardateli un po' addosso, l'organica allergia che hanno per il rosso. Non li riesce di vedere, senza scatti di furore, fazzoletti nel bandiere, che si andi questo colore. Forse tu li paragoni, a dei tori alle corride, ma son primi gli coglioni, nel confronto non coincide. Ora li riconoscete, come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembra Antoni, ma son voi. Se non li conoscete, guardate quanto vale, quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni, ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni, alle tasche dei sicari. Da Eranchiara, da Arcinazzo, le sue vere attribuzioni. Movimento, ma del cazzo, come le masturbazioni, fatte a tecnica manuale, con la destra nazionale. Li riconoscete adesso, che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista, sa far bene dall'acche. Se non li conoscete, guardate il capobanda, è un boi e un assassino, colui che li comanda. Sull'orvalce si è indossato, la camicia e la cravatta, perché resti mascherato, tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore, e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore, della sua camicia nera, pensa a farlo muopper bene, fino a quando gli conviene. Se non li conoscete, almirante è sempre quello, con il vitro e il manganello, ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavano solo, con due bombi in bocca a un fiore, mentre adesso col tritolo, alla fiamma tricolore. E ora eccoli da capo, contro la democrazia, come un dico la Gestapo, ora invece con la CIA, con cimati con le peci, di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti, ste carogne, se ne tornino alle fogne, con gli amici che hanno laggiù. Se ne tornino alle fogne, con gli amici che hanno laggiù.